E al Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona questa mattina una visita guidata per persone con disabilità psicofisica nell'ambito del progetto ArcheoTouch. Oggi lo ricordiamo è la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Il servizio di Roberta Balzotti. Hanno ascoltato attenti e partecipi i racconti della vita che si svolgeva a Palazzo Ferretti al tempo del Conte Angelo e della Contessa Girolam a sua moglie nel Rinascimento. Sono gli ospiti del centro Cera Lacca di Fabriano che stamattina hanno visitato la sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Il corridoio al primo piano, quella che era la camera da letto dei Conti Ferretti, la sala dei giochi con il soffitto al labirinto e la sala delle feste. Qui hanno potuto guardare da vicino questo manichino che rappresenta la Contessa Girolamma, toccare gli abiti, adornarlo con monili. Il percorso è uno dei tre nuovi del progetto ArcheoTouch per il 2014-2015. Un progetto didattico rivolto a persone con disabilità psicofisiche che è stato attivato nel 2011 dal Servizio Educativo della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, in collaborazione con il Comune di Ancona e che coinvolge centri specializzati. Si sviluppa con visite guidate, percorsi tattili tra le collezioni esposte e laboratori. Per riuscire ad abbattere tutte le barriere, non solo quelle architettoniche, ma anche quelle che si frappongono tra il visitatore e l'oggetto, il reperto che all'interno di un museo archeologico è contenuto, lo sappiamo quasi sempre, all'interno delle vetrine, ma in questo caso invece è immediatamente accessibile. Quindi è veramente un'archeologia senza barriere, in particolare nella giornata dedicata alla disabilità. Grazie, Andrea.